Musica Ciao a tutti, i gliciolini sono Mami Didi degli Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo magnifico, splendido e bellissimo episodio della Crash Ending A che periodo siamo arrivati ragazzi? Alla? 17? Si, mi sa la 17, si 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 Ragazzi, allora, 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 vi devo raccontare alcune cose prima di cominciare Venite vicino a me Un tanto tempo fa Un player di numero... no scherzo ragazzi, bando alle ciance, sto morendo, sto morendo Andiamoci a prendere l'acqua che ho qua Allora, che cosa andiamo a fare? Io vorrei ricapitolare un attimo e fare un attimo il punto di quello che abbiamo fatto fino ad oggi in questa serie bellissima E vi dico anche alcune news, ovvero che non sto registrando con la videocamera, con la webcam Per un semplice motivo, perché ho scoperto che i video vengono non sincronizzati con l'audio E quindi sta cosa mi da un po' al cavolo Fatemi sapere perciò voi che cosa ne pensate Cioè, se registrare comunque, anche se vengono un po' sfalsati i video O se fare altro, trovare un'altra soluzione, eccetera Anzi, se voi avete una soluzione da propormi, io l'accetto molto molto volentieri ragazzi Ricordatevi che io registro con Action Quindi, ditemi un po' voi, datemi e fatemi sapere la vostra Detto questo, detto questa comunicazione di servizio Che cosa abbiamo fatto fino ad oggi ragazzi? Allora, siamo andati avanti con le quest in questo modo Cioè, il primo libro l'abbiamo praticamente finito Dobbiamo finire questa qua, quindi col printed circuit Che faremo a brevissimo Questa è la prima quest Poi c'è la seconda quest che stiamo portando avanti E siamo arrivati a questo punto E che altro abbiamo fatto? Ci siamo ben atti con gli alberi da frutta Anche se non sono tutti quelli possibili e immaginabili Abbiamo un piccolo orticello che è un po', devo dire, ci sfama Abbiamo la produzione di lava e di acqua Anche se momentaneamente l'acqua è ferma E abbiamo la nostra pressure camber Altro non abbiamo Mi sfugge Ah, abbiamo il generatore di cobblestone Importante, importante Io vorrei iniziare a fare qualcosa di frigo Di frigo Di frigo anche perché siamo molto russi E siamo molto all'inizio No, scherzi a parte ragazzi In questo episodio Sarà un episodio di farming Se vogliamo Se vogliamo lo potete considerare monotono Se non vi piace vedere le costruzioni E vedere l'edilizia Se invece vi piace vedere come si costruisce Come fare cose fighe Oggi faremo un po' di questi lavori Comincerei da roba E in questo modo mi faccio anche una chiacchieratina con voi Abbiamo il piccone distrutto Quindi vado a prendere un po' di bone meal E prenderei anche delle foglie Ragazzi purtroppo Purtroppo io non riesco a reccare Cioè questo lavoro lo dovrei fare off camera Se proprio non volete annoiarvi Il problema è che se lo faccio off camera Rischio di non far uscire il video Perché non ho tutto questo tempo da dedicare A Minecraft, alla Townie, al lavoro, a 10.000 cose Quindi preferisco Anche se sarà un episodio più di farming che di altro Preferisco reccarlo E ce la godiamo insieme Ci divertiamo comunque insieme Meglio di niente, no? Ehm Io tra l'altro Qua vorrei sistemare un po' tutta questa zona Qua mi sono cresciuti pure gli alberi giganti Vorrei sistemare sì questa zona E vorrei renderla Cioè fare proprio una zona farming Degli alberi da frutta Mi ispira, mi piace Gli alberi da frutta mi... Che caspita, sempre butto giù queste foglie Mi figano Cioè, sono fighi Sono fighi, sono fighi Ehm Non solo, vorrei anche Fare... Proteggerci dagli... Dai mostri esterni Finendo quella benedetta staccionata Che dovevamo finire Non abbiamo ancora finito Poi vorrei iniziare a fare anche dei macchinari Solo che dovremmo iniziare a pensare all'energia Ehm Dovremmo iniziare a pensare all'energia Ragazzi Quindi che ne so Fare l'auto farming Per le foglie Così produciamo acqua E produciamo tutto Intanto ragazzi In camera Mentre parlo e gioco con voi C'ho un elicottero Perché non è una zanzara È un elicottero Quindi se sentite dei rumori strani Perché sto cercando di uccidere Sto elicottero Da guardia di finanza Ehm Perché sto dicendo Mi fa piacere Però che pizza E quindi Oggi facciamo un po' Di lavori di casa Anche se l'episodio Non lo posso chiamare così Cioè che palle Uno che legge il nome Lavori di casa Bello È molto stimolato A vedere l'episodio Che cavolo E in più vorrei anche parlarvi Della serie Townie Perché so che molti di voi Molti di quelli Che guardano questa serie Da Crash Landing Stanno venendo a giocare con noi Nel mondo Townie E ci stiamo divertendo Tantissimo Anzi Vi invito Se questa cosa che ho detto È vera A lasciare un commento Su questo video E a dire effettivamente Se vi state divertendo con noi Al di là della serie Crash Landing Parlo proprio col team Italian Sharks In generale Perché noi Lo facciamo per voi ragazzi Se voi non vi divertite Cioè Noi cambiamo tiro Cambiamo cose E altro Perché sì Dobbiamo divertirci insieme Ma non deve essere una cosa Solo dal nostro punto di vista Ok Che caspita è questa cosa Non è solo un'ombra Oh Sono Sto arrivando la notte ragazzi Cioè ma io non posso Essere trincerato in casa mia E temere ancora la notte Ma io non lo so Allora Tra l'altro Vorrei anche fare Degli altri Autonomus Ragazzi Gli Autonomus E li possiamo fare Una volta che iniziamo a fare Tutti quei circuiti Belli carini Belli proprio Belli 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 proprio Allora Tu mi devi produrre acqua Quindi Via di sta roba E tu mi produci terra Ok La terra E meno importante Dell'acqua Ok Ok Eh Madonna Lasta Ah no no 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 Io essere talebano Io essere molto talebano Ma caspita Parlo oggi ragazzi Ma ditemi un po' Ma ditemi C'è questo mami di di ubriaco Ma ne vogliamo parlare Di questo mami di di ubriaco Cioè manco riesce più a parlare Mami di di Pensate un po' ragazzi E Che altro vi posso raccontare Ehm Sì Che Sembra il stesso discorso Ragazzi Madonna Che ve lo dico a fa Ah Una cosa molto molto bella Vi vorrei ringraziare Perché A nome di tutto il team Italian Sharks E vi ricordo che Non sono io A gestire il canale Ragazzi Siamo in tre Quindi Tutti quelli che scrivono Mami di dei dei Mami di dei dei Sì Mami di dei dei Sì Però siamo in tre Porca palettina Ehm Quindi a nome di tutto il team Italian Sharks Vi voglio ringraziare Perché Stiamo crescendo veramente Tanto E velocemente E' una crescita Che non ci aspettavamo Ed è merito vostro Perché Ehm Siete veramente Spunto Di crescita Per noi Perché Ehm Vi Cioè Ci date la possibilità Di migliorarci Con ogni vostro commento Per noi E' un modo per migliorarci Per venirvi incontro Per Per diventare migliori Quindi Quello che oggi sono Italian Sharks E' Soprattutto Ed è grazie Al vostro Merito Perché se voi Vi state zitti E non ci davate I feedback Che invece ci date Italian Sharks Oggi non sarebbero questi Ok Detto questo Ehm Quindi grazie Perché Dovete sentirvi parte Di questa crescita Cioè Se non Se non è così Non voglio obbligarvi Però Sappiate che E' merito Anche vostro Ok Ehm Che altro vi posso dire Che 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 ragazzi Facciamo una cosa Io Ho già un po' Chiacchierato con voi Visto che voglio Finire Questa staccionata E vorrei Allargare Se possibile La zona Di farming E abbiamo già Arrecato per 10 minuti Mi siete già Stati ad ascoltare Per 10 minuti Non voglio rompervi Le scatole Ancora di più Farei una cosa Farei una cosa Ehm Stop un attimo L'episodio Finisco Queste opere Di lì Perché ora E' veramente Veramente noioso E ci vediamo Tra poco ragazzi Ciao E li Eccoci ragazzi Abbiamo Ho fatto un po' Di roba Innanzitutto qua Si è riempito Il tank E' stra pieno di acqua Dopodiché Qui abbiamo fatto Abbiamo sistemato E possiamo dire Di essere tranquilli E belli Protetti Qui dentro Ora ragazzi Vorrei procedere Con le quest Quindi si Mi dedicherò Magari Off camera Magari nel tempo libero A fare un bello Orticello di frutta Però in questo episodio Vorrei anche portare Avanti Le quest Allora Farei Questa roba Qui Praticamente Quindi dobbiamo creare Un empty PTB Is fa We can get started And the foundation Pretty much Ok Questo empty Furfrance B Come caspita Si chiama Come si crafta Sperando di avere Tutti gli elementi Uh E che ci vuole Compresse D'iron e Plame Cingivose Dove sta Compresse D'iron Plastic Plastic Sta qua Benissimo Compresse D'iron Sta là Allora 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 Dobbiamo vedere Se abbiamo il carbone Necessario Però Dammi un compresse D'iron Benissimo Ora Impostiamo Allora Questa è la prima volta Che uso con voi Il filtro Quindi qua Dobbiamo impostare Ah Qui Allora Fatemi togliere Sta roba Filter Items It name Empty Quindi dovrebbe Farci uscire Solo sta roba Che esce con Empity Ora Andiamo A prendere Un po' di carbone Perché non so Se abbiamo Abbastanza pressione E Dov'è il carbone Dov'è il carbone Qui dovremmo avercelo Sì 1 2 3 4 Dove essere sufficiente E andiamo A fare Quest'altra cosa Tra l'altro Ragazzi Qui c'è L'altra fornace Della tinker Quella Fatta strana Quella fatta strana Che Voi dite Che caspita È una cosa fatta strana Allora Io non trovo Ah devo usare Il Lopper 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 Dov'è che l'ho messo? Qua dentro Benissimo Benissimo Allora 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 Così Ho detto così Bene Questo è questo Dovrebbe averli fatti entrare E dimmi che non sono usciti Non sono usciti Ma sono entrati? Oh Ma che ca 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 Item filter Interface status Export mode No problems Ok Qua è tutto a posto E qua Vediamo un po' Ancora se è bugato qui dentro Cioè ma Ma sei Ma sei ciucciato Ma qua è a zero Scusa Fammi vedere un attimo qua Sta presso Allora Era rimasto lì dentro Sì ma Mi dà il blocco Grazie Grazie Dai Su Allora Perché non funziona? Chi mi sa aiutare? Chi mi aiuta? Allora Ma che Porca paletta E qua Dammi di nuovo Sta schifezza Brutta schifezza Te Schiaffate qua Allora Questo è Input Import mode Benissimo Allora Se ti metto Questo E questo E ti metto così Così Perché non mi fa entrare tutto Oh Madonna mia Allora ragazzi Come funziona sta cavolo di presto E che cavolo E poi faccio pure i video Che spiego le cose Mamma mia Riproviamo Tu così funzioni Bene Tu così funzioni E tu qua ti sei aperto Ok Mo Filter Creative tab Item name Contain Nessun filtro Redstone transport No No Upgrade Information Expo Selec Whether it's Importing By How You place The block E Means It's importing On that Side How Means It's Use the filter To select Which item Allora To be imported Exported Come si fa ad importare qualunque cosa Materials No Item name Item contain Items Devemo mettere Uno E due Ok E mo Oh 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 Un FPS Perché Ok E io mo Come te li do Perché mi si rincoglionisce Chi è che c'è di spararmi Rimani là Mori No Vediamo se faccio così Guardate quanto lagga Ciao Ma quanto sei brutto Ah il giant zombie Ora Ragazzi Chi mi sa consigliare Su che cosa sto sbagliando Perché mi inserisce solo Ma porca Mi inserisce solo uno Perché Sicuramente Sbaglio io qualcosa Sicuramente Sicuramente Perché dovrebbe far entrare entrambe le cose Ragazzi A meno che A meno che Aspettate un attimo Allora Faccio un'ultima prova Dopodiché Ragazzi Chiudo l'episodio E aspetto un vostro consiglio Potrebbe anche essere Oh ma che è tutta sta Se io faccio così Vediamo Che cosa fa Anche perché mi sta laggando il C tremendamente Non fa un caspita Allora ragazzi Io stop qui l'episodio Aspetto un vostro consiglio Su come cavolo funziona Questa pressur Camber E intanto cercherò di studiare Che devo dire Non ho studiato Evidente Evidente E ci vediamo ragazzi Nel prossimo episodio Per oggi Da mammi di Dalla pressur camber Che non funziona E tutto Aspetto un vostro commento Vi ricordo che ci trovate Tutti i giorni Su TS Sui social network Su facebook Google plus E un po' da tutte le parti Sciabelli Ragazzi Ragazzi Ho scoperto come funziona Praticamente sono un pirlo In pratica Era tutto giusto Solo che Dovevo mettere I due materiali qui dentro Senza toccare nulla E dovevo aspettare E soprattutto Far creare un po' di vapore Quindi Facendo creare un po' di vapore Quello in automatico Piano piano Con i suoi tempi Se li importa tutti e due Gli elementi Senza problemi E infatti Dopo un po' Dopo aver importato Questo qui Il compresse d'ailand Ha importato anche la plastica E ora Se vedete Sta salendo la pressione Appena arriva qui Dovrebbe crearci Il nostro PCB Ci vediamo nel prossimo episodio Veramente questa volta Dove però vedremo Il PCB composto E soprattutto Avendolo impostato In questo modo Vedete Funzionerà E quindi ci farà uscire Il nostro PCB Ragazzi Veramente per oggi è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao belli Grazie a tutti Grazie a tutti